5 colpi messi a segno in un mese, quasi uno a settimana. Il modus operandi sempre lo stesso. Uno di loro faceva da palo all'esterno delle attività, gli altri due entravano a volto coperto e armati di pistola si facevano consegnare l'incasso. I carabinieri hanno arrestato tre soggetti residenti nella provincia di Foggia accusati di essere responsabili dei cinque furti portati a segno tra il 24 febbraio e il 20 marzo 2021. Colpiti tre supermercati e una tabaccheria a Stornara e un'altra tabaccheria di Ortanova, a capo dell'organizzazione criminale accusata di associazione per delinquere, un 59enne di Stornara ritenuto l'organizzatore di ogni singola rapina e che partecipava attivamente ai colpi dando istruzioni ai suoi complici. Loro entravano, lui faceva sempre da palo all'esterno. Le indagini dei carabinieri sono partite dalla rapina alla tabaccheria di Stornara. 400 euro il bottino ottenuto dai banditi in quell'occasione dopo aver puntato la pistola contro la cassiera. Nonostante il volto coperto, i militari sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, delle attività commerciali e da un'impronta trovata sul registratore di cassa. Infine, la prova principale del loro coinvolgimento. I tre indagati avevano in casa gli stessi indumenti utilizzati per i loro colpi, elemento che li ha inchiodati facendo scattare le manette. Tutti e tre sono stati condotti nel carcere di Foggia.